Musica De Luca su Fonderie, Forte, Dora Pisano, Querelli, il governatore. Aria interna nel Cilento si è insediato il tavolo permanente contro lo spopolamento. Università di Salerno premia la qualità della didattica del liceo scientifico Pisacane di Padula. All'Istituto Superiore Sacco il progetto La Nostra Salute a Tavola con il dottor Raltieri. Salerno e Lions Club Arechi con il Lions Club International Distretto 108YI illustra la proposta di legge su uso e regolamentazione dei social. Ben tornati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura, in primo piano, le Fonderie Pisano. Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita, ha esplicitamente invitato il vertice delle Fonderie Pisano a querelare il presidente della regione Campania De Luca, come aveva nelle scorse settimane minacciato di fare e con chi continuava a sostenere l'inquinamento della sua azienda. La dichiarazione rilasciata dal presidente della regione, secondo il quale l'impianto inquina e va chiuso, ha sorpreso Lorenzo Forte. Vediamo. A Salerno abbiamo la Fonderia Pisano, che a mio parere deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fanno nulla per evitare l'inquinamento, tanto per essere chiari. Ha lasciato senza fiato Lorenzo Forte, il presidente del Comitato Salute e Vita, la dichiarazione rilasciata alla platea degli studenti del liceo scientifico Francesco Severi di Salerno dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore, parlando di come la politica debba trovare una giusta mediazione nella salvaguardia di interessi, come lo sviluppo sostenibile, ma anche i livelli occupazionali, ha citato l'esempio delle Fonderie Pisano di Salerno, ribadendo, come aveva già fatto in altra occasione, che l'impianto inquina e va chiuso. In pratica, quello che sostiene il Comitato da vent'anni in una lunga battaglia legale e anche di contrapposizione con gli enti locali chiamati a controllare e a difendere il territorio. Oggi, in una conferenza stampa convocata nei giorni scorsi per parlare del nuovo percorso legale avviato dal Comitato, che approda la Corte Europea di Giustizia con un ricorso presentato dagli avvocati Franco Massimo Lanocita e Federico Acocella per trovare le sue ragioni nella difesa dell'ambiente contro le Fonderie Pisano, Lorenzo Forte ha esplicitamente invitato il vertice dell'impianto di Fratte Guido Pisano a querelare il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Pisano, nelle scorse settimane, aveva minacciato di querelare chi continuava a sostenere l'inquinamento della sua azienda rispetto ad una serie di certificazioni ambientali, tra l'altro ribadite anche ieri dopo l'esternazione del presidente De Luca, che vanno invece nella direzione di dimostrare che la fabbrica non è pericolosa e che si stia lavorando per ridurre le emissioni. Cosa ha provato quando ha sentito le parole del presidente Vincenzo De Luca ieri in merito alle Fonderie Pisano? Beh, siamo rimasti profondamente colpiti perché per la prima volta, dopo vent'anni che lo diciamo, Vincenzo De Luca finalmente ammette, dà con dati certi che la Fonderia, in maniera senza giri di parole, che la Fonderia inquina e non fa nulla per non inquinare. In base a questo, la logica e l'atto conseguenziale è che a giorni arriverà, per quanto ci riguarda, da parte o del presidente De Luca o del sindaco che era presente lì al Severi, un'ordinanza contigibile e urgente di chiusura, perché conoscerà dati che non solo per noi, già prima c'erano tutti i presupposti e i dati per chiudere, ma dati anche recenti che confermano che la Fonderia, come dice il governatore De Luca, perché è lui il presidente che dà le autorizzazioni e è lui che le revoca, inquina e non fa nulla per non inquinare. Perché non c'è la firma di Guito Pisano, la stessa firma, il presidente del Consiglio d'amministrazione che non meno di due mesi fa ha minacciato di querelare chiunque parlava contro le fonderie e tra chiunque c'erano le mamme, i padri, i fratelli, le sorelle di tante vittime morti e ammalati di cancro nella Valle dell'Irno che chiedono giustizia. Beh, Pisano dovrebbe essere conseguenziale e dovrebbe avere la dignità e il rispetto dei morti e degli ammalati. Rispetto a questo, se non è vero che inquina, per noi inquina, De Luca l'ha detto, anche il presidente l'ha detto, se non inquina, quereli De Luca e sia conseguenziale. Se non lo querela vuol dire che loro inquinano e non fanno nulla per non inquinare. Si è insediato nel Cilento il Laboratorio Permanente di Conoscenza e Analisi del Fenomeno dello Spopolamento. C'è stato un primo incontro di presentazione a Vallo della Lucania a cui sono state chiamate a dialogare varie figure, cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. Vediamo. Si è insediato nel Cilento il Laboratorio Permanente di Conoscenza e Analisi sul Fenomeno dello Spopolamento. Gli allarmanti dati tratti dal Piano Pluriennale di Sviluppo Socioeconomico 2022 della Comunità Montana Gelbison Cervati e della Strategia dell'Area del Cilento Interno raccontano di un'accelerazione dello spopolamento negli ultimi sette anni con un aumento della popolazione over 65. La Comunità Montana Gelbison Cervati ha organizzato un tavolo sullo spopolamento con il contributo del ricercatore Filippo Tantillo. Era un primo incontro di presentazione se tenuto a ballo della Lucania. Sono state chiamate a dialogare varie figure. La significativa e competente platea di giovani e associazioni presenti ha dato un segnale forte anche alle rappresentanze istituzionali che c'erano. C'erano i sindaci del territorio cilentano, la Regione Campania con il Presidente della Commissione Aria Interne Michele Cammarano, la Provincia di Salerno con il Vice Presidente Giovanni Guzzo, il Commissario del Parco Marcello Feola. Partendo dalla consapevolezza che le aree interne rappresentano un'opportunità da studiare e da esplorare, l'obiettivo dell'incontro era aprire un confronto tra le componenti istituzionali e di cittadinanza attiva per avviare un'analisi delle problematiche. La richiesta di istituzionalizzare il tavolo e renderlo asse portante di un nuovo percorso verso la riprogrammazione e l'ampliamento delle aree interne del Cilento sono stati temi affrontati l'altra sera a Vallo della Lucania. Il tavolo istituito non aveva lo scopo di trovare colpevoli ma porre le basi per avere un punto di riferimento e analizzare così il fenomeno per trovare soluzioni precise. Si proseguirà con incontri tematici su quanto emerso nella discussione partendo dal fatto ad esempio che la perdita di popolazione dicono gli organizzatori sembra essere frutto più della mancanza dei servizi essenziali che del mancato sviluppo economico di un'area dove sono stati riversati numerosi finanziamenti evidentemente malgestiti in passato. Il Comune di Polla propone di aumentare le soste dei treni a contursi termi nel periodo estivo anche in considerazione della posizione strategica dello scalo che serve le province di Salerno Avellino e Potenza una soluzione che favorirebbe anche l'afflusso di turisti a Padula Polla e nel Vallo di Diano. Il Comune di Polla propone di aumentare le soste dei treni a contursi termi nel periodo estivo anche in considerazione della posizione strategica dello scalo che serve le province di Salerno Avellino e Potenza una soluzione che favorirebbe dicono anche l'afflusso di turisti a Polla e nel Vallo di Diano. Lo si legge in una delibera di giunta con cui l'amministrazione Loviso ha deciso di fare richiesta a RFI alla Regione Campania e alla Regione Basilicata. Sarebbe in via sperimentale tra la primavera e l'estate e limitatamente ai fine settimana. In ogni caso sottolineano il Comune resta impegnato nel richiedere fortemente una stazione dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria nel territorio del Vallo di Diano. A supporto della richiesta ci sono una serie di motivazioni con torsi terme si legge nella delibera per la sua posizione geografica e la porta naturale della Valle del Sele Alburni Vallo di Diano Alterpinia Ofanto e Vulture Melfese. Ha uno scalo ferroviario storico importante situato sulla tratta Battipaglia Potenza-Taranto e serve un territorio esteso con numerosissimi comuni delle province di Salerno Avellino e Potenza. Lo scalo ferroviario è dotato di un ampio piazzale per servizio parcheggio bus, auto e ciclomotori e la stazione è dotata di un immobile idoneo e funzionante per servizi tecnici igienici e sala d'attesa Dista due chilometri dallo svincolo autostradale della A2 e dalla strada statale 691 Fondo Valle Sele che porta in Puglia e dallo svincolo di contursi terme Postiglione che porta negli Alburni Lo scalo ferroviario inoltre è frequentato da numerosi pendolari lavoratori e studenti che utilizzano il treno Litiga con un connazionale poi aggredisce una donna ferendola al volto è successo ieri a Campagna un nigeriano di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni e di rapina impropria l'uomo ha prima litigato con un connazionale poi si è scagliato contro la donna a cui ha anche rubato il cellulare il nigeriano arrestato è stato ferito alla testa e alla clavicola per i danni alla testa ha ricevuto oltre 30 punti di sutura all'ospedale di Eboli poi è stato trasferito al carcere di Salerno andiamo avanti ancora con la cronaca una donna è stata trovata senza vita in casa il ritrovamento è avvenuto a sala la consilina si tratta di una donna di 56 anni che viveva da sola è stata trovata dai vigili del fuoco nella sua abitazione in via Valle Mauro si tratterebbe di morte naturale il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad un malore a dare l'allarme i vicini di casa e andiamo avanti cambiamo argomento l'università di Salerno premia la qualità della didattica del liceo scientifico Pisacane di Padula ieri la cerimonia di consegna del riconoscimento da parte del dipartimento di ingegneria dell'informazione ed elettrica matematica applicata dell'università di Salerno vediamo importante riconoscimento per il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula premiato per la qualità della didattica dal dipartimento di ingegneria dell'informazione ed elettrica matematica applicata dell'università degli studi di Salerno si è infatti svolta ieri la cerimonia di consegna del riconoscimento per gli eccellenti risultati conseguiti dagli studenti provenienti dal Pisacane nel quinquennio 2018-2022 iscritti al corso di laurea di ingegneria informatica da parte del Diem dipartimento di ingegneria dell'informazione ed elettrica matematica applicata in particolare come si legge sull'attestato consegnato alla scuola padulese l'Ateneo Salernitano si è congratulato con il liceo Pisacane per aver formato gli studenti Giovanni Gallatro e Mario Martino che si sono distinti per l'eccellente carriera accademica sia in termini di punteggio finale 110 e lode che per i tempi di conseguimento del titolo 36 mesi per la laurea triennale 28 per la magistrale a ritirare il premio sono stati il dirigente scolastico il professore Pietro Mandia la vicepreside la professoressa Carmela Pessolano la docente di informatica la professoressa Chiara Chirichella e una delegazione di studenti del Pisacane l'istituto nel rendere nota la notizia esprime le proprie congratulazioni ai due studenti e ricorda che sono tante le opportunità didattiche che il liceo scientifico Pisacane sta offrendo ai propri alunni insieme all'Università di Salerno le ultime in ordine di tempo le attività pomeridiane del liceo matematico le attività di preparazione per le olimpiadi italiane di cybersicurezza rivolte agli studenti del corso scienze applicate i percorsi PCTO i progetti PLS piano lauree scientifiche il premio Caglianiello e le olimpiadi Mercoledì 8 marzo festa della donna celebrazione internazionale per ricordare le conquiste delle donne ma anche per evidenziare cosa c'è ancora da fare per la tutela delle donne per assicurare il rispetto dei diritti riservati alle donne l'associazione ragazzi di San Rocco insieme alla banca Montepruno hanno programmato presso il teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina un evento dedicato proprio al tema delle donne in programma mercoledì 8 marzo vediamo il mese il mese di marzo il mese dedicato alla donna con la ricorrenza dell'8 marzo in cui si celebra la giornata internazionale dei diritti delle donne l'origine della festa non è ben chiara e ancora oggi c'è tanta confusione anche sulla data scelta per la celebrazione che nel tempo è stata legata all'incendio verificatosi in una fabbrica a seguito del quale morirono quasi 150 lavoratori in gran parte donne che però in realtà non si è mai verificato l'8 marzo del 1908 come si ipotizzava ma che invece si sarebbe verificato il 25 marzo del 1911 se si vuole legare la giornata per i diritti delle donne a quell'evento tragico in ogni caso quale che siano i legami con l'8 marzo ormai l'appuntamento è consolidato nel mondo ed è l'occasione per sensibilizzare e dare pieno valore alla donna sia come titolare di diritti ma anche per ricordare le tante conquiste sociali ottenute negli anni non senza sacrifici l'8 marzo diventa anche un'occasione per sensibilizzare il mondo contro la violenza sulle donne come ogni anno anche il Vallo di Diano di Salernitano organizza una serie di appuntamenti finalizzati a sensibilizzare sul tema e in campo scende anche la Banca Montepruno che insieme all'Associazione Ragazzi di San Rocco nell'ambito della rassegna teatrale Teatro in Sala hanno promosso un evento interamente dedicato alle donne che si terrà presso il Teatro Scarpetta Sala Consilina a partire dalle ore 20 di mercoledì 8 marzo il programma prevede la lettura interpretata a cura di operatrice del Centro Antiviolenza Retusa del Consorzio Sociale S10 gestito da Differenza Donna e dell'Associazione di Promozione Sociale Ragazzi di San Rocco con l'accompagnamento musicale a cura di Giuseppe Romano una parte della società evidenzia il presidente dell'Associazione Ragazzi di San Rocco Franco Freda nel presentare l'evento è ancora legata ad una visione patriarcale maschilista solo la consapevolezza può portare ad una definitiva via d'uscita l'idea dell'Associazione è stata subito accolta dal direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese come unica BCC del territorio sottolinea Michele Albanese partecipiamo con entusiasmo a questa iniziativa riteniamo che la ricorrenza assuma un valore importante per ricordare conquiste sociali politiche ed economiche che hanno cambiato il ruolo della donna nell'ultimo secolo conquiste da rinnovare ogni anno ricordando che ancora le donne sono vittime di discriminazioni abusi e violenze anche in quei paesi dove la parità di genere ha fatto importanti passi in avanti la consapevolezza ormai c'è conclude Albanese bisogna diffondere senza freni e tutti insieme a prescindere dai ruoli e responsabilità questa voglia di dire basta alla violenza e alle discriminazioni di genere e ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità tra poco bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo a Sant'Arsenio la nostra salute a tavola è il progetto ambizioso dell'istituto Sacco per promuovere le giuste scelte a tavola si tratta di un percorso importante intorno alla cucina mediterranea lezioni teoriche e pratiche per i ragazzi dell'Ipseua che si confrontano con esperti quali il dottor Giuseppe Altieri supportati dai docenti di enogastronomia e sala e vendita vediamo la nostra salute a tavola è un progetto ambizioso dell'istituto Sacco per promuovere le giuste scelte a tavola è un'iniziativa importante raccontano dalla scuola diretta da Rosaria Murano vede la collaborazione dei docenti di enogastronomia e sala e vendita autorevoli esperti con l'obiettivo di creare un percorso importante intorno alla cucina mediterranea arricchito da nuove interpretazioni che tengono conto di un approccio attento alla salute e alla sostenibilità ambientale oltre al rispetto dei principi della biodiversità stagionalità ruralità e frugalità dei prodotti utilizzati tutti i prodotti realizzati hanno lo scopo di valorizzare la territorialità del Valloridiano Cilento e della Campania gli studenti dell'Ipseua sono coinvolti con questo progetto in otto moduli tra lezioni teoriche e pratiche sviluppate dai docenti esperti Pasquale Masullo Raffaele Borreca Vincenzo Benvenga Alessandro Castagliola Giovanni Granieri supportati dai docenti tutor Biagio De Luca Lucilla De Rienzo Angelina Di Mare Emanuela Giacchetta Maria Pia Mercurio Francesca Innamorato Luigi Nasacco e Anna Rita Guida durante i vari incontri gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con un esperto autorevole quale il dottor Giuseppe Altieri medico chirurgo specializzato in diabetologia malattie metaboliche dietologia prevenzione delle malattie associate alla dieta quali obesità diabete patologie cardiovascolari cancro promozione dell'invecchiamento in salute attraverso il benessere cognitivo e fisico il percorso di educazione alimentare proposto al sacco con questo progetto si pone come obiettivo quello di tutelare e sensibilizzare gli alunni sui temi della prevenzione attraverso la buona e sana alimentazione e in particolare sugli effetti benefici della dieta mediterranea sulla salute psicofisica al termine delle lezioni ci saranno due eventi in cui i ragazzi si cimenteranno in cooking e cocktail show mostreranno la preparazione di alcuni piatti significativi di un menù realizzato durante il progetto l'abbinamento dei vini ne spiegheranno valori nutrizionali e tracciabilità e verrà realizzato un ricettario frutto delle attività tenute nei diversi moduli didattici andiamo ora a Salerno dove questa mattina presso il salone dei marmi è stata presentata la proposta di legge sull'uso e la regolamentazione dei social una proposta partita dal Lions Club International al distretto 108YA presente all'appuntamento anche l'onorevole Gianfranco Rotondi vediamo il Lions Club del distretto 108YA ha lavoro per una proposta di legge finalizzata a regolamentare l'utilizzo dei social al fine in particolare di poter contrastare l'abuso di offese rivolte agli utenti questa mattina presso il salone dei marmi a Salerno il Lions Club a Rechi presieduto da Alfonso Palumbo ha organizzato l'evento finalizzato alla presentazione della proposta di legge che è stata messa a punto dal Lions distrettuale ed in particolare dal coordinatore distrettuale Antonino Napoli insieme al professor Pasquale Sessa una legge che come è stato spiegato nel corso dell'evento svoltosi questa mattina si pone come finalità la tutela degli utenti che potrebbero ritrovarsi loro malgrado vittime di un circuito che è capace di espandersi in maniera veloce un appuntamento di grande interesse che attraverso l'illustrazione della proposta di legge su uso e regolamentazione dei social ha consentito anche di mettere in risalto quelli che sono i principali problemi e le numerose insidie dei social media da cui oggi non è facile sottrarsi anche alla luce dell'importante ruolo che gli stessi rivestono nella comunicazione oggi sembra che sia impossibile fare a meno dei social eppure si stanno rivelando sempre più strumenti pericolosi capaci anche di danneggiare pesantemente le persone strumenti che nati per facilitare il confronto il dialogo la conoscenza il mantenimento di legami e contatti si sono invece trasformati strumenti in cui l'aggressione la violenza verbale la diffamazione e l'accusa si diffondono con estrema rapidità da qui l'idea del Lions Club International distretto 108 YNA di lavorare nell'ambito delle attività sociali finalizzate a sostenere chi è più fragile alla proposta di legge illustrata questa mattina a Salerno l'evento di grande interesse ha visto la partecipazione di numerosi relatori all'incontro moderato da Sonia Gaudiosi infatti dopo i saluti del presidente del Lions Club Salerno Arecchi organizzatore dell'evento Alfonso Palumbo del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli della presidente di zona Lions Marianna Amendola del presidente della sesta circoscrizione Lions Adolfo Senatore e dei vicegovernatori Lions distretto Y Nato Maso di Napoli e Pasquale Bruscino sono intervenuti per le relazioni Carmela Fulgione coordinatrice distrettuale New Voice Fabio Mammone presidente Lions Club Salerno Duomo e Antonino Napoli coordinatore distrettuale per legalità responsabilità cittadinanza presenti all'incontro anche l'onorevole Antonio D'Alessio l'onorevole Piero De Luca e l'onorevole Gianfranco Rotondi presidente della commissione affari legislativi della camera dei deputati due giornate di full immersion nella speleologia vista sia come passione per la montagna e per i suoi misteri che come pratica di tutela dell'ambiente i gruppi speleo alpinistico Vallo di Diano e speleo Melandro hanno organizzato un fine settimana tra Casaletto Spartano e Sanza per avvicinare gli appassionati alla speleologia e per la tutela dell'ambiente vediamo una due giorni intensa per dedicarsi alla speleologia tra attività formative di avvicinamento al mondo della speleologia e momenti di studio e di tutela dell'ambiente una due giorni che vedrà il gruppo speleo alpinistico Vallo di Diano e il gruppo speleo Melandro raggiunge la grotta Mario Lomeo a Casaletto Spartano e l'inghiottitoio di Rio Torto a Sanza due appuntamenti che seppur con argomenti e interessi diversi sono comunque legati tra loro mettendo in particolare in risalto l'importanza della speleologia nella cura dell'ambiente i due eventi sono in programma rispettivamente sabato 25 marzo a Casaletto Spartano e domenica 26 marzo a Sanza in quest'ultimo caso la giornata si concluderà con un incontro dibattito nel corso del quale saranno approfondite le tematiche legate allo stato di salute della cavità carsica visitata nel corso della giornata a Sanza e più in generale del territorio grazie alle relazioni che saranno proposte dalle esperte Simona Cafaro e Rosangelo Adesso nel dettaglio la due giorni promossa dai gruppi Speleo Alpinistico Vallo di Diano e Speleo Melandro prenderanno il via sabato 25 da Casaletto Spartano dove grazie al patrocinio del Comune e della Federazione Speleologica Campana è stato organizzato una giornata di avvicinamento alla pratica speleologica finalizzata ad aiutare gli appassionati di speleologia ma che non hanno mai avuto modo di vivere nel concreto la loro passione e quindi possono avvicinarsi al misterioso mondo una giornata in cui non è richiesta una particolare preparazione atletica e che consentirà ai partecipanti di visitare la suggestiva grotta Mario Lomeo che si sviluppa in orizzontale e pertanto non richiede particolari attrezzature per visitarla il secondo giorno i due gruppi Speleo si sposteranno a Sanza dove grazie al sostegno dell'associazione 3T del Cervati e con il patrocinio del Comune di Sanza si terrà l'appuntamento legato all'iniziativa di carattere nazionale Puliamo il Mondo promossa da Lega Ambiente e che per l'evento del 26 prende il titolo di Puliamo al Buio la giornata sarà incentrata su due specifiche attività ossia l'esecuzione di analisi dei materiali rinvenuti e le condizioni ecologiche dei sistemi con particolare attenzione alle condizioni delle falde acquifere dal punto di vista dell'inquinamento ed inoltre sarà occasione per ripulire l'area di pregio naturalistico da rifiuti abbandonati indiscriminatamente i partecipanti si riuniranno sabato 25 a Sanza presso il Centro di Educazione Ambientale per una breve illustrazione di come si svolgerà la giornata la partenza per l'inghiottitoio di Rio Torto è invece fissata alle ore 9 di domenica mattina per effettuare le attività di monitoraggio documentazione e bonifica dell'area a seguire nel pomeriggio l'incontro di battito curato da Simona Cafaro e Rosangelo Adesso che fornirà un importante valore anche formativo ed informativo all'evento e con questo servizio è tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e una buona domenica grazie a tutti